Arbiter, sei stranamente silenzioso. Quali problemi oscurano i tuoi pensieri? Gerarca, non voglio essere impudente, ma mi avete incaricato della distruzione dell'umanità. Un onore per uno con un passato così travagliato. E di questo vi sono grato. Ma signore, mi avete fatto appostare tra antica rovinia per lustrare templi vuoti. Come posso raggiungere il mio obiettivo in questo modo? La guerra con gli umani sarà imponente e richiederà più macchine di quante ne possediamo ora. Renderò quelle che abbiamo. Lasciandoci senza difese. No, gli antichi ce le forniranno. Questo mondo vedrà la nascita di una flotta oltre ogni immaginazione. Sufficiente a schiacciare gli umani in fretta e con facilità. Ma questo mondo è dormiente. Non è altro che un guscio. Sockezze! Con la pazienza troveremo quella chiave. Ma forse c'è un modo più veloce. La donna della reliquia di ghiaccio. Lei ha delle conoscenze al riguardo. Il pianeta a cui ci ha condotto la reliquia ha condotto anche lei. Catturate quell'umana e portatela qui. Sono un po' tu. Siete arrivati nel punto dove si trovava il campo energetico. Date un'occhiata. Cos'è stato? Lo scaraba è incompleto, ma la sua testa è operativa. Il campo di fuoco blocca ogni chance di ritiro o estrazione. Dovete distruggerlo. Non c'è neanche alzamenti, non c'è neanche questo nuovo guscio. Lui di una base è un esercito e uccidete quello Scarab. Reattore completato. Il fascia di luce dello Scarab mostra la direzione in cui è rivolto. Le rovine del tempio in quest'area forniranno riparo, ma non per sempre. Partiamo. Ragazzi, diciamo che qua c'è un metodo per avere, diciamo così, Oscar e Bobbac. Dai, non esco a parlare. Lo Scarab ha bugato. Ho detto, non ho fatto ciò. Sono i più costosi per il C6. Sono ancora i più utili. Base rifornimenti completata. Tutte le unità. Muoviamoci. Base rifornimenti potenziata. Nuovo sangue sviluppato. base rifornimenti potenziata. Base rifornimenti potenziata. Andiamo. Andiamo. D'accordo. Lezione a grappolo sviluppata. Obiettivo vicino. Armeria da campo completata. livello tecnologico superiore richiesto. Costruisci altri reattori. Parli sanguinare. Morgia è a terra. Andiamo all'attacco. Il loot è ormai le testa, l'anno? No. Ricevuto. In viaggio. Attivo. Fuoco di copertura. Scorpion rifornito e pronto. Avete distrutto un nodo energetico. La testa dello Scarab gira più lentamente. Ah ma non mi dia. Non me l'ho per niente accorto. Andiamo. Allora ragazzi gli edi. Vado. Rimuovo. Spendica. Opzione. Audio. Ma poi gli audio. Salute. Sì perfetto. Su anzi sto diventando soldo. Marina rapporto. Andiamo. In viaggio. Coordinate ricevute. Andiamo. Il sistema d'arma dello Scarab dipende dai nodi energetici dell'area. Distruggeteli e riducete l'efficacia combattiva dello Scarab. Siamo pronti signore. Sì dio fin qua ci sono arrivato pure io. La vetta della Scarab si sta muovendo lentamente. Continuate. Tutte le unità. Tutte le unità. Li prenderemo. Signor sì. Procedo. Tutte le unità. In viaggio. Prestete. Granate. Via. Raggiù. Nemico. Nemici. Proiettili in volo. Fate a pezzi tutti i locust che avvistate. Distruggono gli edifici. Ascuro. Ci muoviamo. No, no. Coordinate ricevute. Hanno lanciato un contraattacco sulla nostra base. Cambiare. Medico sviluppato. La testa si sposta più lentamente. Unità locale. All'attacco. Corretta potenziale. Punizione caricata. Vai. Così. Signor sì. Colpi. Ricevuto. Andiamo. In viaggio. Ricevuto. Mi muovo. Coordinate ricevute. Tutte le unità. Urra. Se riusciamo a far piazzare il Marine Lee, in teoria, si dovrebbe pagare. Signor sì. L'attacco nemico è iniziato. Granate. Via. Tutte le unità. Ricevuto. Mi muovo. Sì. Sarà un piacere. Caricato è puntato. Tutte le unità. Tutte le unità. Nemici. A morire. Facciamo casino. Granata piazzata. Andiamo. Procedo. Posso partire. Coordinate ricevute. Ora bisogna si riesce a far ribalgare lo Scarab. Perché se la risposta è sì, siamo messi benissimo. Unità locale. Urra. Cerchiamo. Mi stanno facendo fuori tutto la base. Torretta potenziata. Vedete il prossimo torretto? Se non ricordo male. Vediamo. Sì. Secondo te ragazzi. Cioè continuerà a sparare gli per sempre. Una cosa finissima è questa. Non le toglieranno niente. Torretta completata. Tutte le unità. Torretta potenziata. Torretta potenziata. Torretta potenziata. Torretta potenziata. Ho proprio visto il fascio di luce. No. Ho smesso di buggarsi. Torretta completata. Torretta. Li prenderemo. Torretta. Dove si va? Signor sì. Signor sì. Che conoscere voi vengate qua. e non ho risolto a prendermi il costituto c'è molto più rigenerazione pronta rigenerazione annullata adrenalina sviluppata c'ho visto che è uno scatto orribile rigenerazione puro gli obiettivi il semplice fatto è che abbiano cominciato ad attaccare e non mi piace oddio perchè mi sto sparando le lacette così ah quasi tu qua ci sono risorse mi muovo ah forge è ancora qua a terra ho sentito che lo stars è ancora attivo andiamo procedo ricevuto mi muovo base rifornimenti completata oggi torna in azione tutte le unità dovrebbe essere l'ultimo qua sopra base rifornimenti potenziata dubito sicuro facciamo gli affetti è quasi fatta rilassiamoci in arrivo ricevuto tenete le armi pronte fuoco stiamo perdendo varie su quel loco lo prenderò benvenute alla guerra signor si signore in movimento dacci un ordine create resources dovevo cominciare mi piace attaccando non mi piace ah cioè quindi d'assenza di un esercito della base questa cosa che altrimenti non me la ricordavo tutte le unità no io come ho detto se tu dici a qualcuno di andare a raccogliere le risorse si si non si aspetterebbe che tu mi raccogliessi le risorse in questione quindi detto ciò io ritorno perché me la geek così gioco perché tutte le unità quindi i ragazzi gli hanno messo l'ultimo generatore e adesso spendo il video il video no ho messo malterrappito spendo io ragazzi di concludere il video qua se ho detto quello che ho detto 5 secondi fa ma ci sono costretto a chiudere qui perché il tempo passa e vola quindi ciao a tutti ci vediamo subito